Tutti da Saludatore, eccovi con il grandissimo Marco Mazzocca, eccoci qua, Marco, lo sai da quante che ti cerco, lo sai tantissimo Eh sì, io sempre a casa l'ho stato, eh, ma a casa dove però? A casa mia, e tu sta a casa tua? E tu non lo sai? Eh, io lo so, io lo so, è segreto, non si dice, ecco, allora No, non è segreto, vicino Roma, ah, vicino Roma, no, perché poi sei partito, sei, ma io sto sempre qua, guarda, va e vengo, va e vengo Ecco qua, senti, allora, tu sei anche il giornalaro, come si chiama? Il giornalaro, il? Il giornalaro, il giornalaro, ecco, allora vogliamo fare, innanzitutto L'hai visto? L'hai visto? L'hai visto? L'ho visto, l'ho visto, molto bello, sai poi si abbina a me il salutatore, il giornalaro, perfetto, è bravo, vedi, se lo ricordi a lui Tu sei un grande, ti volevo chiedere un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono da sempre Un saluto al salutatore e a tutti i salutati, fan del salutatore che li saluta tutti, con grandi saluti a tutti quanti e saluti anche a voi Grazie Meglio di così, non poteva venire Veramente no, non poteva venire meglio e facciamo un saluto pure a tutti i fan del giornalaro E pure a tutti i fan del giornalaro, mi raccomando, quando scegliete una scelta di vita e come di diventare vecchiani, me lo dite E io vi sono da un sacco di informazioni, ciao a tutti Grazie, tu sei un grande, facciamo un saluto finale con, non può mancare Gio D Ciao signore, ci diamo Gio D Grazie, ti ringrazio e ho la sorpresa per te, la manina del salutatore da me Ciao, grande, ciao Ah ma questa fa pure... Esatto, grazie Grazie